un saluto a tutti e benvenuti un benvenuti da paolo che sono io a un nuovo episodio dell'italiano in podcast questa è la puntata numero 389 di martedì 28 dicembre 2021 11 puntate mancano 11 puntate alla numero 400 e mancano pochi giorni alla fine di questo 2021 ma per noi non cambia niente puntata numero 400 puntata del 2021 nel 2022 l'obiettivo il nostro obiettivo è sempre quello di fare esercizio con l'italiano e quindi anche oggi sono davanti a questo microfono un po in ritardo molto ritardo oggi mi sono svegliato un po più tardi quindi la registrazione è iniziata un po più tardi non troppo l'episodio non sarà lungo come ieri ve lo prometto quasi 50 minuti ma erano molti giorni però lungo corto anche questo non è importante importante è avere una dose ogni giorno di italiano un richiamo ogni giorno anche 20 15 minuti 30 minuti non è un problema ci vuole un un booster ogni giorno ok l'ho detto ho detto la parola booster non lo dico più un richiamo un richiamo ogni giorno per l'italiano ma forse l'italiano in podcast può essere un un vaccino per per imparare per ricordare meglio l'italiano scherzo ma questa queste parole hanno un po rotto le scatole oggi uso un termine una frase un po più forte comunque anche in questo martedì 28 dicembre 2021 provo a mettere a vostra disposizione un po di italiano parlato parlato da un madrelingua spero spero di esserlo ancora non so ormai parlo con poche persone durante il giorno sono tutti un po come dire tappati in casa in questi giorni tappati vuol dire chiusi in casa è un'altra espressione che usiamo tappati in casa tapparsi in casa tappare è diventato anche un altro termine oggi è quel gesto di toccare uno schermo uno schermo che si usa con il tocco delle dite della mano quando si si tocca qualcosa sullo schermo si dice tappare ma tapparsi vuol dire chiudersi quindi sono tutti tappati in casa in questi giorni si esce ma per passeggiate con questi con questi ultimi giorni con questo sole degli ultimi giorni è piacevole stare fuori ma vita sociale almeno per me molto ridotta a poche persone quindi non so non parlo più molto italiano come voi questa è la conversazione è una delle conversazioni più lunghe ma è interessante che la maggior parte del tempo io parli con persone non italiane questo è strano ma è così quindi anche io ho bisogno di ricordare un po di italiano scherzo ma spero che il mio italiano sia buono per voi che la la mia voce sia chiara e la mia pronuncia più neutra possibile e il mio compito è quello di parlare un po per voi raccontarvi qualcosa della mia giornata e anche qualche notizia dal bel paese tutti sapete che chiamiamo e chiamano l'italia il bel paese qualche volta non sempre vero ma capisco le ragioni di questo soprannome e quindi con queste due attività parlare della mia giornata e di quella dell'italia cerco di mettere a punto e disposizione un po di tempo per permettervi di ascoltare fare pratica e migliorare la comprensione dell'italiano questa è la mia parte la vostra parte è quella di stare a sentire quello che io dico anche se è noioso anche se non vi piace se volete fare un esercizio con me dovete dovete come dire sopportare la mia voce un altro modo per dire questo sopportare sorbirvi dovete sorbirvi la mia voce che parla da sola per per 30 minuti circa come in un monologo anzi in un monologo quindi questo è il vostro dovere e prima di iniziare proprio perché è difficile sopportare la mia voce per 30 minuti il mio consiglio è di mettervi comodi quindi cercare un posto tranquillo nella casa nell'ufficio dove volete l'ho già detto ho detto anche molte volte di stare attenti in macchina e non so in bicicletta per favore fate attenzione quando mi ascoltate in questo modo e quindi rilassarvi in questo modo provare a sintonizzare provate a sintonizzare le vostre orecchie sulla mia voce come una radio e cercate di afferrare catturare rubare anche tutto l'italiano che potete da me parole espressioni modi di dire ma soprattutto provate a starmi dietro e a capire la maggior parte almeno di quello che dico questo è importante le parole qualche parola che non capite sono sempre lì nella vostra testa e piano piano quando le ripeto e le ripeto e le ripeto diventano sempre più familiari un giorno sono sicuro saranno a vostra disposizione nella nella vostra conversazione ma adesso vando alle ciance vando alle chiacchiere cominciamo con il racconto e cercherò di non fermarmi mai perché primo sono in ritardo e secondo anche per me questo è un esercizio devo abituarmi a non fermarmi mai e c'è un motivo per questo più in là fra qualche giorno ve ne parlo prima devo sistemare alcune cose forse voglio partire con una nuova idea ed è importante non fermarsi mai e essere sempre in grado di continuare anche con un errore quindi cominciamo con il racconto molto semplice della mia giornata di questo martedì 28 dicembre una buona giornata perché finalmente la pioggia non c'è stata e anche ieri quindi abbiamo avuto del bel tempo e ovviamente ho approfittato come sempre per uscire e prendere un po di aria fresca ieri mattina però ho fatto un po tardi con le cose che di solito faccio la mattina quindi sono uscito per la colazione e anche per una passeggiata ma non avevo troppo tempo perché poi dopo c'era la prima lezione del giorno di mattina e anche l'unica della mattina in realtà dopo dopo la lezione mi sono dedicato a qualche piccola commissione in casa in realtà ho aiutato mia madre a fare qualcosa ma poi ho iniziato a un po di lavoro per i speak italiano come sempre le lezioni di oggi erano solo tre una al mattino due nel pomeriggio e quindi avevo del tempo a disposizione e quindi ho lavorato per i speak italiano e dopo molto tempo e da tanto che questo era in programma finalmente ho completato la pagina facebook del blog una breve premessa sono onesto facebook non è il mio social preferito nella mia vita privata non lo uso e anche il suo funzionamento mi sembra un po strano a volte diverso da molte piattaforme forse un po più confuso so che per voi questo può suonare strano per molti di voi che lo usano abitualmente parlo da un punto di vista della gestione di un profilo non personale ma un profilo ecco come quello di un blog o come di una un'azienda forse c'è tutta una parte che ho dovuto studiare capire bene per cercare insomma di usare questo questo profilo di i speak italiano nel modo giusto e anche non non ero abituato ad usare questa piattaforma quindi ho dovuto imparare ho studiato un po come funziona quello che posso fare quello che non posso fare devo dire che sono un po deluso perché non è così potente quando si pubblica qualcosa insomma ci sono dei limiti ma forse sono io che ancora non ho capito bene alcune cose mi vergogno un po perché no vergogno e no non mi vergogno perché conosco molte tecnologie informatiche quindi non posso vergognarmi di non conoscere bene facebook ho lavorato con molte tecnologie facebook non è sicuramente quella che conosco bene ma so che più di un miliardo di persone la usa regolarmente e con facilità quindi anche io devo imparare a farlo e sicuramente pubblicherò anche su facebook il mio materiale e altre cose insomma ovviamente dopo aggiungerò i link alla pagina sul mio blog e in tutti gli altri posti in cui ho una presenza quindi su instagram twitter insomma ovunque troverete anche l'indirizzo della pagina che non è molto difficile il nome utente www quindi www www come sempre punto ai spicchi italiano punto it questo è il nome utente che ho usato che è anche l'indirizzo del blog non è difficile da cercare e sicuramente mi fa piacere se tutti voi potete venire sulla pagina andare sulla pagina e lasciare un like o magari seguire il lavoro anche da facebook è una piattaforma importante e quindi è giusto che ai spicchi italiano sia anche lì me lo hanno chiesto molte persone molte persone usano questa piattaforma per trovare risorse per trovare materiale anche e quindi non sono affatto dispiaciuto di mettere a disposizione tutto il mio materiale anche anche su facebook probabilmente come uso personale è diverso ma in realtà io non uso molto i social personalmente diciamo no come paolo però è importante mi rendo conto che è importante quando si parla di una attività come o di un progetto come ai spicchi italiani è giusto che sia presente ovunque in ogni possibile luogo di internet bene quindi questo è il lavoro che ho fatto tra la mattina e il pomeriggio sembra strano sono molte ore ma molto spesso ho semplicemente letto alcune cose e cercato di capire bene alcune cose di facebook ma ovviamente in mezzo c'è stato anche il pranzo c'è stata una bella passeggiata nel pomeriggio sulla spiaggia queste mareggiate nei giorni scorsi una mareggiata è quando il mare è molto agitato le onde sono molto grandi, alte si dice che c'è stata una mareggiata quando c'è stato questo mare molto molto agitato e nei giorni scorsi è stato così c'è stato un mare molto agitato e questo ha portato sulla spiaggia anche molti rifiuti rimango sempre così sorpreso nel vedere tante bottiglie di plastica o plastica in generale sulla spiaggia dopo una mareggiata questo è qualcosa che non solo mi dispiace molto perché non è uno spettacolo molto bello quando sei abituato a vedere la spiaggia pulita così bella, così insomma piacevole da vedere non è assolutamente bello trovare tutta questa immondizia tutta questa spazzatura sulla spiaggia mentre cammini ma non solo mi dispiace, mi fa arrabbiare molto è una delle poche cose che mi fa arrabbiare credo che le persone non rispettino abbastanza il mare evidentemente anche le persone della mia città e questo è strano quando nasci vicino al mare e ami il mare vedere questa schifezza, perdonatemi galleggiare o sulla spiaggia è davvero qualcosa di fastidioso insomma qualcosa più che fastidioso non capisco come sia possibile qualche volta quando passeggio vicino al mare sulla scogliera soprattutto che frequento spesso trovo dei rifiuti da tutte le parti insomma bottiglie di vetro qualche volta lasciate sopra uno scoglio bicchieri di plastica molto spesso è un istinto insomma soprattutto il vetro che è molto pericoloso devo prenderlo e buttarlo via ovviamente anche cerco di farlo con la plastica soprattutto l'estate quando la vedo nell'acqua è qualcosa che mi fa impazzire non capisco come sia possibile lasciare una bottiglia o un bicchiere di plastica nell'acqua del mare è fastidioso molto fastidioso per me anche a terra non è normale anche nella nostra città nelle strade buttare plastica o altre cose nell'acqua del mare non so non so come sia possibile ma è possibile lo fanno sappiamo che il mare è pieno di plastica e in generale di rifiuti e sappiamo anche quali sono le conseguenze perché cominciamo già a vedere il risultato di questo comportamento assolutamente folle e pazzo ma forse ancora non è abbastanza per qualcuno e qualcuno ancora crede che non sia importante rispettare il mondo che ci circonda è un discorso che tutti conosciamo bene sono sicuro che gli amanti di Espic Italiano non inquinano e non buttano cose nel mare e neanche per terra nelle loro città o in mezzo alla natura non voglio fare un discorso noioso e lungo non ce n'è bisogno tutti sappiamo l'importanza di questa idea per molte ragioni per molte ragioni e nessuna ideologica credetemi nessuna ragione ideologica ragioni di buonsenso semplicemente buonsenso ma comunque scusate se questa cosa mi fa un po' arrabbiare bene quindi una bella passeggiata purtroppo c'era questo spettacolo che non ho amato ma ancora è molto piacevole fare due passi sulla sabbia vicino all'acqua con un bel sole e dopo di questo sono rientrato a casa e sì ho finito le ultime cose c'è solo un post su ho pubblicato solo una cosa su facebook gli auguri del natale ma nei prossimi giorni aggiungerò ovviamente i post sul materiale del blog che già esiste anche e se avete tempo mi fa piacere una visita come ho già detto dei like e anche se fate un po' di pubblicità al progetto è sempre importante avere nuovi visitatori persone nuove che usano e frequentano il blog il progetto in generale o ascoltano il podcast è molto importante come vi dico sempre quindi aiutatemi a far crescere i speak italiano bene dopo aver finito questo lavoro che non è stato troppo faticoso qualche volta ho perso un po' la pazienza su certe cose ma alla fine tutto è più o meno chiaro dopo questo lavoro un paio di lezioni nel pomeriggio nel tardo pomeriggio e poi la sera molto molto piacevole con una persona speciale come sempre questi sono i miei momenti preferiti e una bella conversazione molto lunga per chiudere in bellezza la serata quindi una un piacevole una piacevole fine della giornata prima poi di mangiare qualcosa velocemente guardare qualche piccolo video e infine andare a riposare per la notte ho fatto anche un altro cambiamento nella mia stanza ho tolto lo schermo per guardare video quando sono a letto quindi ho deciso che quando è ora di riposare non ci sono altre distrazioni non ci sono schermi non c'è da guardare nulla ma solo stendersi rilassarsi e dormire sono un po' esperimenti che faccio ma questo credo che sia una buona idea ho usato questo schermo però per la mia postazione ormai quasi pronta finalmente in realtà ci lavoro già in questo posto ma voglio registrare anche da questa nuova postazione il podcast e come ho detto provare un altro piccolo progetto che ho in mente quindi adesso ho una postazione con due monitor nella mia scrivania nella stanza nella mia stanza ho un monitor molto grande e ormai sono abituato a questo quindi ho deciso di usare due schermi in questa postazione per ricreare un po' la stessa situazione prima di acquistare in futuro un nuovo schermo più grande anche per quest'altra postazione bene tutta qui la mia giornata vi ho raccontato tutto proprio tutto una giornata rilassante piacevole devo dire la verità con un buon equilibrio tra lavoro e riposo in questi giorni più lenti di quasi vacanza in mezzo alle festività e poi come ho detto un finale molto piacevole per chiudere la giornata con un buonissima compagnia vediamo invece che cosa è successo in Italia le notizie come sapete sono quasi dominate da un solo argomento ma c'è qualcosa di cui si può parlare prima di tutto c'è questo questo questa manovra questa legge finanziaria la legge di bilancio di cui vi ho parlato altre volte cominciano un po' insomma le discussioni sugli effetti di questa legge soprattutto per la riduzione delle tasse l'anno prossimo qualche giornale ha osservato che Super Mario forse fa risparmiare un po' più soldi alle persone più ricche e un po' meno soldi a quelle con un lavoro normale queste sono le opinioni di alcuni giornali io non faccio polemica politica conoscete bene la mia opinione su Super Mario ma non voglio dire altro comunque Super Mario ha quasi finito di far approvare questa legge dal Parlamento manca solo l'approvazione della Camera dei Deputati che è la nostra parte del Parlamento più numerosa ma sembra che questo sia certo sia sicuro quindi nessun problema per la legge finanziaria di Super Mario ok dopo questa notizia di politica che è molto importante sui giornali perché qualcuno dice bravo bravissimo qualcuno dice insomma ma insomma non tanto Super questo Mario vedremo l'anno prossimo cosa succederà che cosa diranno gli italiani del nonno d'Italia ok basta così migranti purtroppo altri cinquecento cinquantotto migranti in arrivo beh purtroppo perché queste persone sono state salvate in mare da una nave di medici senza frontiere quindi arrivano nel porto di Augusta in Sicilia provincia di Catania e saranno ovviamente accolti e curati dal personale che lavora sempre in questi centri di accoglienza proprio per cercare insomma di aiutare queste persone continuano quindi questi sbarchi e sicuramente con questo freddo che c'è stato non è ovviamente sicuro per queste persone fare questo viaggio spesso ci sono incidenti e anche morti questa è la realtà triste realtà un'altra buona notizia però una buona notizia invece è questa dell'annuncio della realizzazione di un musical con molte delle canzoni di Lucio Dalla molti di voi conoscono questo artista scomparso qualche anno fa purtroppo e hanno deciso quindi di mettere insieme probabilmente le sue canzoni più famose e nel 2023 mettere in scena quindi portare davanti al pubblico questo spettacolo questo musical in onore dei suoi 80 anni dalla nascita questo è un artista molto amato in Italia e ovviamente questo è un omaggio che sembra molto molto giusto tra l'altro molte delle sue canzoni sono nella storia della musica italiana e vi invito ovviamente ad ascoltarle un'altra buona notizia per capodanno per la fine dell'anno è in arrivo un anticiclone dall'Africa quindi per i prossimi giorni è in arrivo questa grande massa questa grande massa di aria calda questo anticiclone africano che porterà bel tempo è caldo anche sembra una buona notizia per iniziare bene l'anno nuovo e finire bene anche questo 2021 insomma non è tempo di bilanci però i bilanci si fanno il 31 disembre quindi non comincio a fare nessun bilancio speriamo solo di iniziare bene nel 2022 tutte qui le notizie non covid e invece oggi vi do le notizie covid anche è il caso di farlo abbiamo avuto 78.000 nuovi casi in 24 ore tantissimi ieri erano di più quindi non vi ho dato l'informazione ieri ma c'erano più casi ci sono 202 morti questo anche è un bruttissimo dato e il tasso di positività è al 7,6% ma tutti questi numeri in realtà non sono così indispensabili per capire la situazione voglio dire che basta ascoltare un po' quello che accade nelle nostre città aumentano ogni giorno di più le persone che conosco che hanno preso il virus quindi c'è questa sensazione netta chiara che il virus si diffonde in modo molto veloce e speriamo che questa quarta ondata non sia troppo terribile sembra che come abbiamo detto altre volte questa variante è molto contagiosa ma meno aggressiva quindi un po' più facile da combattere ma non è qualcosa con cui possiamo scherzare certamente si discute sulle regole qualcuno propone l'eliminazione della quarantena per chi ha ricevuto tre dosi di vaccino ci sono polemiche come sempre su quali regole utilizzare ma sembra chiaro a tutti che dobbiamo stare attenti e prepararci a affrontare questa nuova ondata nel modo giusto l'obiettivo in questa fase mi sembra chiaro evitare gli ospedali pieni evitare l'aumento di casi più gravi quindi questo è l'obiettivo in questo in questo momento speriamo che la maggior parte la grande parte delle persone che prendono il virus siano in buona salute insomma senza bisogno di andare in ospedale e che possano guarire facilmente a casa e senza troppe complicazioni ovviamente tutto qui per quanto riguarda le notizie dall'Italia non c'è altro da aggiungere manca solo l'ultima parte quella dell'aforisma del giorno la frase celebre dell'italiana o dell'italiano celebre di oggi beh ho scelto per voi una frase di un personaggio storico ovviamente vi invito a trovare l'autore o l'attrice dell'aforisma e la frase che ho scelto è questa rifiuta la tua percezione di ferita e la ferita stessa sparirà mi sembra una frase molto interessante di un personaggio storico quindi non è un contemporaneo sicuramente è un personaggio che ho citato altre volte e quindi vi invito a cercare di trovare all'autore o l'autrice come ho detto di questa di questa frase e con questa frase come sempre vi saluto quindi vi ringrazio anche oggi per avermi ascoltato vi do l'appuntamento a domani per un nuovo episodio per il momento vi saluto e ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti